Simona Manenti del Calcio Sezze, una società che inaugura proprio quest'anno la partecipazione alla sesta edizione del Mediolanum Baby Cup. Un torneo che ha sempre visto numeri in crescita, soprattutto coinvolte tante altre società. Io le chiedo che tipo di interesse ha la società a fare questo torneo e per quale motivo vi partecipate. Buonasera, l'interesse nostro è in relazione ai ragazzi. Speriamo con questo torneo, con questa nostra partecipazione per la prima volta, di incontrare nuove squadre, di avere la possibilità di confrontarci con queste squadre e di creare anche un rapporto di collaborazione e di amicizia. Credo che l'obiettivo sia quello di giocare a calcio, di avere un calcio che unisce le società e non le divide, nell'interesse dei nostri ragazzi e di avere protagonisti i bambini e le loro famiglie. Valori sociali, valori sportivi, soprattutto la voglia di divertirsi, sono soprattutto queste le componenti del Mediolanum Baby Cup. Qual è stato il fattore che ha spinto la vostra società a partecipare? Nel senso, come siete venuti a conoscenza di questo torneo e che cosa vi aspettate in questi nove mesi di manifestazione? Allora, l'interesse è nato da una mia curiosità personale nei confronti di questo torneo già da alcuni anni, anche perché sono comunque presidente di un'associazione giocando tra amici che organizza tornei a livello di beneficenza. Adesso in questo ruolo, in questo incarico come responsabile di scuola calcio, desidero partecipare a questo torneo e credo che le aspettative, poi si vedranno lungo il percorso, comunque l'intenzione è quella di portare i nostri ragazzi e di permettere ai nostri ragazzi di partecipare a questo torneo con le altre società.